Italia UK TV, questo è il primo canale televisivo satellitare per la comunità italiana nel Regno Unito che ha preso il via il 5 agosto su Sky UK, canale 191, suscitando subito interesse tra spettatori ed investitori. Il gruppo di Italia UK TV è lo specchio di un mondo multiculturale che mangia fusion, parla almeno due lingue e vive nel posto in cui lavora meglio, senza però dimenticare le proprie radici. Lo scopo è di creare un punto di riferimento televisivo vero che possa soddisfare la richiesta degli spettatori italiani ma anche far scoprire all'audience inglese la cultura e il mondo italiano. Proprio su questi aspetti si basa la programmazione del canale Italia UK TV con lo scopo di far conoscere nuovi aspetti della realtà italiana nel mondo, fashion, cinema, food, sport, arte, musica e imparare una nuova way of life britannica attraverso la presenza di ospiti e interviste. Per ora le trasmissioni sono visibili il giovedì dalle 21 a mezzanotte, orario inglese, ma presto i palinsesti aumenteranno andando a coprire una trasmissione giornaliera. Coming soon Italia UK TV, a new voice for all Italians living in the UK. Bring Italy into your home with Italia UK TV through news, in-depth analysis, exclusive interviews, music, community matters, food, fashion and so much more. Italia UK TV is a whole new way to experience Italy in the UK. Loving us is bellissimo. This is Italia UK TV. Complitaly è la prima app pensata interamente per la comunità italiana in UK. Nella sezione Live in UK potrai capire al meglio le procedure istituzionali, avere assistenza contabile e legale, ricevere supporto per la creazione del tuo curriculum, richiedere traduzioni certificate, imparare le lingue, trovare un assistente professionale e molto, molto altro ancora. Mille soluzioni in un'unica applicazione. Complitaly.